...per portare tutto questo gratisolutamente a voi, Agio Lanza! Repubblica cieca, Gabriele Prashin! Ares Riveau! Ho sentito, aspettate un attimo, il stesso nome Ares Riveau, ho sentito solo urlo di donne, Ares, solo donne. Ares Riveau! Ares Riveau! Ares Riveau! Ares Riveau! E' una strage, io la faccio nel 2010, la faccio nel 2011, si. Mamma mia, mamma mia! E' una strage! Riveau! Ares Riveau! Ares Riveau! Ho visto che anche da lui ci sono un bel occhio grida con ieri. E come cresce anche lui? Robert! Peter! Riveau! E significa cieca e che lui, The Militar Voice, Thomas, L'Unsor! Ragazzi qualcuno si ha accordo che Mario Lava e oggi a rischiato di prendere due o tre pompe in Black Flip? Adesso voglio sentire l'urlo di tutta la piazza, AC Giacoma, del nuovo secolo, 2012, qui, da voi, Lombard, Pogba! Ragazzi, vi ho detto, finiamo qua? Sapete cosa mi hanno risposto? Tutta questa bella gente passando ancora qualche salto. Ragazzi, vi ho detto, voglio ringraziare tutta la pubblica assistenza, i bambini del Speraui. Ciao bambini! Tutti coloro che hanno collaborato, polizia, carabinieri e amministrazione.